Ciao sono Ivan e vengo da Brescia. Umberto lo conosco da 25 anni. Sono venuto qua con il mio Viveco Stralis per installare l'antenna del CB, una Power, perché avendo l'antenna originale dello Stralis che non funzionava bene, ho pensato di venire da Umberto che è un professionista e sa fare il suo lavoro. Quindi mi affido a lui per quanto riguarda il CB da anni. Consiglierei Umberto TrackPoint a tutti coloro che hanno bisogno di installazione, riparazione e quant'altro riguardante il CB perché è un vero professionista. A chi lo consiglio? Agli autotrasportatori perché il CB può servire per varie informazioni. Ai camperisti visto che sono anche un camperista perché anche lì è molto comodo per sapere informazioni sull'autostrada, per sapere indicazioni stradali, per sapere se c'è il traffico. Il CB mi è servito molto in questo weekend di Pasqua che ero via col camper perché ho evitato delle lunghe code nel rientro grazie proprio al CB e all'aiuto che ti hanno dato gli altri.